Gli Shardana, il mito di Atlantide, ma soprattutto tante storie e tante leggende raccontate da diversi protagonisti. Sigla! Cos'è e dov'è la mitica Atlantide? Si è ripresa a parlare della Sardegna e del mito di Atlantide anche grazie all'inchiesta sulle colonne d'Ercole, quelle che secondo il poeta Pindaro nel V secolo a.C. erano presenti nel cosiddetto canale di Sicilia. In parole semplici quello era il mondo dei miti, il mondo che non veniva varcato perché oltre c'era il mondo non conosciuto. Voi come la prendereste se qualcuno vi rivelasse che la fantastica Atlantide forse era in realtà la Sardegna? Tutte le cose, tutto il lavoro, tutto il ruolo, è un ritmo. Quanto è misteriosa la Sardegna? Beh, forse più che misteri bisogna pensare a dei malintesi. Probabilmente la Sardegna era quell'isola occidentale al di là delle colonne d'Ercole di cui parlano molte testimonianze greche. Non ci siostante la Sardegna non siostante la cultura, ci siostante la guarda. Ci siostante. Ci siostante. Ci siostante. Il passo della marcha è il ritmo. Le parole è il ritmo. Ci siostante. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti